è da non togliere proprio questo qua da non togliere da non togliere io provo un disgusto un tale vomito una tale schifezza mi vergogno mi vergogno ragazzi mi vergogno veramente mi vergogno veramente di di una società di una squadra soprattutto di un allenatore di merda siete tutti delle merde ma delle merde delle merde darvi della merda è offendere la merda darvi della merda è offendere la merda siete lo schifo più totale che ci sia in circolazione mai visto una Juventus più brutta di questi tre anni qua e siamo sempre peggio è quello che in questi tre anni non c'è stato un minimo miglioramento sempre peggio facciamo schifo allo schifo facciamo schifo allo schifo facciamo una vergogna una ma vergogna dire poco ma la vergogna ormai è una parola ormai risaputa qui qui bisognerebbe tirare giù tanti di quelle bestemmie tanti di quei porconi che io non lo so guardate qua ma quante mazzette che ho preparato guarda uno a due non è mica finito tre mazzette tre quattro quattro perché io gliele darei in testa a tutti quelli che hanno giocato oggi soprattutto a quelle merde lì a centrocampo in attacco quel Ken e tu continui a mettere ancora dentro quella merda di Ken quello schifoso lì che non sa neanche neanche sua mamma non lo vuole a casa quello lì quello quale pieno di mazzette le spaccherei tutte in testa io queste qua siete proprio una manica di merda siete delle merdi delle merdi delle merde che darvi della merda è una soddisfazione darvi della merda ma guarda anche qua avevo già preparato anche il coso guarda mi manca la punta davanti lì per cosar per vedere che cazzo hai dentro che cazzo cosarti la testa dentro aprirti per vedere qui di fronte per vedere qua se c'è ancora qualche neurone ma non ce n'hai tu ma io non ho mai visto una Juventus più schifosa ma voi ma lì in tribuna ma tu ma non vedi che merda ma non ti vergogni di avere tu di essere proprietario di una squadra così di merda ma non ti vergogni ma io non lo so ma io la roba che mi ritengo più più io la cosa che mi ritengo un po' più più che sono orgoglioso di avere è l'orgoglio è l'orgoglio l'orgoglio nella persona dovrebbe essere una una delle prime cose che ha che ha tu ma è possibile che tu non ne hai un briciolo di orgoglio di andare giù e prendere questo qui a calci nel coglione e mandarlo via io questa sera pretendo che tu vada giù e lo prendi a calci nel culo che lo mandi via io pretendo l'esonero di Allegri questa sera perché non è possibile fare tre quarti di partita così poi si svegliano alla fine perché sono talmente l'acqua e la gola che tentano di pareggiare perché le provano in tutte le maniere non c'è un gioco non c'è di qua non sanno che cazzo fare questi qua pare che siano di quelli messi così a caso che è la prima volta che si vedono questi qua non sanno fare un cazzo niente non sanno fare questi qua gioco meglio io con la panza di quelli là ma che cazzo di gioco ma io non lo so ma voi ma durante la settimana ma che cazzo fate voi durante la settimana porco ma che cazzo fate durante la settimana voi cosa vi melate il cazzo vi melate l'uccello cosa fate giocate giocate a carte a briscola cosa fate non lo so mi viene da pensare che 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 non lo so io che vi fate le pugnette tutto il giorno con quell'altro lì ma che cazzo fate perché è possibile che non si riesce a vedere niente sono tre anni che non si vede niente non si vede niente allora vuol dire che in allenamento non fate un cazzo perché se una salernitana già retrocessa con mezza squadra fuori anche mezza squadra fuori ti mette sotto vuol dire che c'è qualcosa che non va ragazzi vuol dire che c'è qualcosa che non va ma c'è tanta altra cosa non c'è una solo una cosa che non va ce ne sono tante che non vanno porca di una puttana di una porca puttana ma non se ne può più ma santo dio benedetto che tu ma toglicelo fuori dal cazzo ti prego questo cazzone di allegri toglicelo fuori dal cazzo ti prego che non ne possiamo più è uno spianto mi batte la pompa gastrica qua sono di incazzare tutto il tempo che mi bolle mi bolle mi bolle altro che i malox qui ma che cazzo ma che cazzo mamma santa madonna mia vergine dolorata che schifo è sempre peggio guardate io non lo so chi verrà a allenare la panchina ma ve lo giuro che se questo qui rimane nella panchina della juventus io vi farò una guerra a parte che non vi compro più un cazzo non vi compro più un cazzo blocco tutto blocco tutto anche i regali perché a son di non farvi i regali anche voi perché non gli compro più niente piuttosto vi regalo qualcos'altro vi regalo non compro più niente e comincio a fare una campagna contro la juventus contro la gente che compra la vostra roba allo store devo incito la gente a non comprarvi più un cazzo non comprate niente non andate allo stadio comincio a fare una guerra ragazzi che apro altri due canali youtuber che ogni giorno non comprate non comprate non comprate perché no o vi mettete in riga dalla prossima stagione ma come Dio comanda se no guardate ragazzi che dopo che comincio a darci sotto di brutto sono cazzi ecco Michelone sono cazzi sono cazzi perché voi ci fate vergognare nel mondo intero ci fate vergognare uno a uno con la salione intera ma siete impazziti ma siete impazziti e c'è ancora qualcuno che difende sto maledetto in panchina sto maledetto schifoso vergognatevi tutti voi dalla curva lì che sostenete ancora sta merda che non volete conte e neanche Tiago Morta volete ancora questo schifoso vergognatevi vendotti siete dei vendotti siete dei vendotti 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 andate a fare in culo versetto Hotta vett 1 Grazie a tutti